Meraviglie nel mondo! Cascate del Niagara, nel Nord America. Sono tra i più famosi salti d'acqua del mondo. Empire State Building. Sempre nel Nord America, uno dei grattacieli più famosi di New York. Esercito di terracotta. Sito archeologico con migliaia di statue di guardia nella tomba del primo imperatore cinese. E si trova in Cina. Grande barriera corallina. In Australia, è la barriera di corallo più grande del mondo. Machu Picchu. Si trova in Peru, famosissimo sito archeologico della civiltà Inca. Tomba della dinastia Ming. In tutto sono 13 tombe di imperatori cinesi, dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Muai, nell'isola di Pasqua. L'isola si trova nell'oceano pacifico meridionale del Cile. Muro occidentale, detto Muro del Pianto. Si trova in Israele, a Gerusalemme, ed è il sito più sacro dell'ebraismo. Rio de Janeiro. Città del Brasile, famosa per la gigantesca statua di Gesù e per il suo carnevale. Uluru. In Australia, è il più imponente massiccio roccioso, luogo sacro per gli aborigeni del posto. Ciao amici, grazie di averci ascoltato. Ciao amici, grazie di averci ascoltato.